Maria, Madre di Dio, prega per noi ...che ospita 100 artisti, quest'anno è il 6 e il 7 luglio, venerdì e sabato a Londra negli splendidi London Pleasure Gardens che sono in pratica sul porto e hanno alle spalle questa costruzione di smessa bellissima dove vengono ambientati molti concerti e gli artisti sono più di 100, quindi è possibile nominarvi tutti per... ...piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, amene Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te